Anticipazioni Terra Amara, Zuleia, determinata a far pagare a Betul il prezzo delle sue malefatte, scatena una serie di eventi che cambieranno le sorti di tutti. Mentre i nodi si stringono, nuove alleanze si formano e segreti sepolti vengono alla luce. Preparatevi a essere catturati dalle intricanti trame di inganno e tradimento, perché il destino dei nostri personaggi è appeso a un filo sottile, pronto a spezzarsi da un momento all'altro, pronti a scoprire cosa succederà. Allora, senza indugi, iniziamo. Luce è ancora tormentata dalla colpa per non aver riconosciuto la vera natura di Betul in tempo. Tuttavia, si rallegra del fatto che la verità sia immersa prima che Fikret sposasse, impedendo così ulteriori sofferenze. Zuleia si interroga sul come abbia potuto fidarsi di Betul, ma Luce le ricorda che lo hanno fatto perché sono entrambe persone oneste. Zuleia affronta Betul a casa sua, licenziandola e mettendola alla prova riguardo alla vendita clandestina delle terre. Betul, confusa, tenta di giustificarsi, ma Zuleia le rivela di aver venduto le terre dopo la morte di Demir, concedendole due ore per lasciare la tenuta. Sermin protesta, sostenendo che la casa è loro, ma Zuleia, irremovibile, le dice che può vivere in un hotel di lusso con i soldi che le ha sottratto. Sermin, furiosa, la insulta, ma Zuleia la respinge, rimproverandola per aver tratto vantaggio dal matrimonio con Demir e assicurandole che non si ritirerà mai dalla sua decisione. Fikret, in città con Cetin, ascolta due amiche di Sermin criticare il suo comportamento. Decide di affrontarle, sostenendo che nessuno lascia una ragazza prima del matrimonio senza una valida ragione e le sfida a chiedere a Betul di raccontare la verità se ha il coraggio. Nel frattempo, il procuratore parla con Akan, mostrandogli comprensione e offrendogli la possibilità di scusarsi per evitare ulteriori complicazioni. Tuttavia, Akan rifiuta e accetta le conseguenze delle sue azioni, venendo quindi incarcerato in attesa del processo. Kadir, preoccupato che Akan possa rivelare qualcosa a Mahmood in carcere, cerca di intervenire per liberarlo, ma il procuratore si rifiuta, confermandone la permanenza in prigione. Nel frattempo, Akan finisce nella stessa cella di Mahmood e cerca di rassicurarlo, distribuendo denaro ai compagni di cella e offrendogli il suo aiuto. Vaap informa Kadir di aver già gestito la questione legata a Mahmood. Poco dopo, Betul giunge con cattive notizie, annunciando la fine del suo rapporto con l'azienda, il fidanzato e la collaborazione con Kadir, poiché Zuleyya ha scoperto la vendita clandestina delle terre. Nonostante tutto, Kadir cerca di incoraggiarla a guardare al futuro. Nel frattempo, Vaap corrompe una guardia carceraria e consegna del denaro. Successivamente, la guardia fornisce delle pasticche a uno dei compagni di cella di Mahmood. Zuleyya, a casa di Sermin, porta via i mobili con l'aiuto di Rashid, Ghaffur e una squadra di operai. Sermin minaccia di chiamare la polizia, ma Zuleyya la sfida a farlo, invitandola a raccontare la verità sul comportamento di sua figlia. Tuttavia, Sermin non compie la chiamata. Nel frattempo, Kadir chiede a Betul cosa farebbe Zuleyya se scoprisse che ha fondato un'azienda fittizia per trasferire i fondi della Holding Yaman. Betul gli risponde che deve aiutarla a uscire da quella situazione, convincendo Kukurova che Zuleyya sta mentendo e danneggiandone la reputazione. Poi lo accusa di essere stato lui a spingerla a vendere la terra. Kadir replica dicendo che non l'ha costretta e che, se fosse stata una donna onesta, avrebbe lavorato lealmente per Demir. Le ricorda anche che è stata lei a proporre la vendita dei terreni. Nel frattempo, Zuleyya sfratta Sermin con forza, svuotando la casa di tutti i mobili che gli operai accumulano davanti alla porta e cambiano le serrature. Sermin minaccia vendetta, ma Zuleyya se ne va lasciandola sola e piangente. Betul chiede a Kadir di acquistare la sua villa prima che Zuleyya la prenda con una sentenza del tribunale, sottolineando che glielo deve per tutto quello che ha fatto per lui. Kadir risponde che è stata pagata per i suoi servizi, non li ha resi per lui ma per se stessa. Quando chiede il prezzo, Betul chiede 200.000 lire, ma Kadir offre 150.000, accettati solo perché è al fianco di Zuleyya. Successivamente, Betul torna a casa e confronta Zuleyya, incapace di giustificare le sue azioni e minacciandola di ritorsioni. Kadir visita Akan in prigione, esortandolo a risolvere la situazione immediatamente e a chiamare il suo avvocato ad Ankara. Akan ribatte che ci vorrà tempo, ma Kadir insiste sul fatto che deve uscire subito perché c'è molto lavoro da fare. Akan insiste affinché Kadir faccia ciò che gli ha chiesto. Quando Kadir torna in ufficio, informa Vaap di essere a conoscenza del desiderio di Akan di restare in prigione per parlare con Mahmood e gli chiede se ha provveduto a farlo tacere. Vaap risponde di aver risolto la questione. Nel frattempo, Akan parla con Mahmood, promettendogli assistenza per la sua famiglia se rivelerà chi lo ha obbligato a autoaccusarsi dell'attacco a Zuleyya. Mahmood, dopo aver riflettuto sulle minacce di Kadir, improvvisamente si sente male e viene portato in infermeria, osservato dall'uomo che gli ha somministrato il veleno con il tè. Zuleyya visita Fikret nella sua azienda e gli confida di aver cacciato via Betul e cambiato le serrature perché non poteva più tollerarla. Fikret approva la sua decisione, ma Zuleyya esprime il suo stupore, pensando che Betul sembrasse una persona per bene e che potesse piacerle. La conversazione viene interrotta da Cetin, che informa Zuleyya che Mehmet Kara è in prigione per aver aggredito il procuratore. Zuleyya è sconvolta e vuole raggiungerlo, ma Fikret le consiglia di stare attenta perché non conosce davvero Mehmet e potrebbe farle del male. Zuleyya chiede a Fikret se è infastidito dal fatto che Mehmet si è innamorato di lei. Akan si reca dal direttore, che gli comunica la morte di Mahmud per avvelenamento. Non sanno chi abbia somministrato il veleno. Akan si sente colpevole, convinto che Mahmud sia stato ucciso per colpa sua, per impedirgli di rivelare la verità. In quel momento, Zuleyya viene fatta entrare e il direttore le riferisce della morte di Mahmud, poi li lascia soli. Zuleyya chiede a Akan se è stato lui ad ucciderlo perché non sa più cosa pensare. Akan le spiega che ha voluto entrare in prigione per scoprire chi è stato a spararle. Quando Cetin torna a casa, Gulten lo accoglie con entusiasmo e lo abbraccia, annunciandogli che quel giorno è il più felice della loro vita. Gli mostra delle scarpine da neonato, rivelando che saranno genitori. Cetin, commosso fino alle lacrime, la abbraccia teneramente. Più tardi, i due vanno alla villa per condividere la bella notizia, accolta con gioia da tutti. Luce e Zuleyya, commosse, li abbracciano e fanno i loro primi regali. Zuleyya raccomanda a Gulten di non sollevare pesi e di mangiare bene. Tornati a casa, mentre sono sul letto abbracciati, Cetin esprime il desiderio di avere una bambina che assomiglia a Gulten, con i suoi bei occhi e il suo buon cuore, e vorrebbe chiamarla Gulten, come sua madre che sorride sempre. Gulten, a sua volta, gli dice che se sarà un maschio vorrebbe che assomigliasse a lui. Cetin scherza dicendo di sperare solo che non somigli allo zio Gaffur, e insieme pregano per avere un bambino sano e una famiglia felice. Sermin e Betul si trasferiscono in una modesta casupola, ma vengono raggiunte da un giornalista che vuole intervistarle sul fatto di essere state cacciate da Zuleyya. Sermin, irritata, le dice di non lamentarsi, sottolineando che vivono lì per un motivo. Quando Hakan esce dalla prigione, trova Zuleyya ad attenderlo con due uomini di scorta. Lei spiega di temere Hakan Gumusoglu e di aver quindi aumentato la sicurezza. Hakan la rassicura, dicendole di non temere nulla con lui al suo fianco. Hakan incontra il procuratore, che gli comunica di aver capito perché si era fatto arrestare e di aver ritirato la denuncia contro di lui. Gli avverte anche che le persone che sono riuscite ad uccidere Mahmud sono molto pericolose, consigliandogli di stare attento. Nel frattempo, le indagini proseguono segretamente. Il procuratore chiede se pensa che dietro a tutto questo ci sia Hakan Gumusoglu. Tuttavia, l'investigatore risponde di no, poiché Hakan aveva un conto in sospeso con Demir, non con Zuleyya, e ringrazia il procuratore per la sua comprensione. Più tardi, Hakan e Zuleyya leggono un articolo su un giornale riguardante la miserevole condizione di vita di Sermin, che incolpa Zuleyya per le sue disgrazie. Hakan commenta che Sermin ha fatto una mossa intelligente, ma è curioso di vedere quanto a lungo potrà resistere a vivere in una catapecchia fatiscente. Contemporaneamente, Sermin e Betul si trovano in un lussuoso ristorante lontano da Cucurova per evitare di essere viste. Sermin si lamenta della situazione e chiede a Betul quanto tempo dovranno ancora vivere in quella misera condizione. Betul risponde che continueranno finché Cucurova non si convincerà che sono vittime innocenti di Zuleyya, una persona cattiva. Nonostante ciò, Sermin continua a lamentarsi. Successivamente, Betul e Sermin decidono di rilasciare un'intervista a un giornalista. Sermin inizia a raccontare che Zuleyya è arrivata a Cucurova con l'intento di sedurre Demir e prendere il controllo delle sue ricchezze, così come aveva fatto con Yilmaz, guadagnandosi la fiducia di Fekeli e sfruttandone le ricchezze. Ora, secondo Sermin, Zuleyya ha messo gli occhi su Fikret e ha rotto il suo fidanzamento con sua figlia. Betul, a sua volta, sostiene che sono state cacciate dalla casa e dall'azienda perché lei difendeva gli interessi di suo cugino Demir. Ma Zuleyya le incolperà falsamente perché è una persona perfida. Il giorno seguente, Zuleyya, prendendo il giornale in mano, vede l'intervista di Sermin e Betul e leggi anche a luce, che commenta che quelle donne non hanno rispetto né per i vivi né per i morti. Determinata, Zuleyya promette di rispondere di conseguenza. Nel paese, dopo aver letto l'intervista, tutti si schierano dalla parte di Sermin contro la presunta cattiveria di Zuleyya. Quest'ultima convoca molti giornalisti in azienda, informandoli che inizialmente voleva mantenere riservo sulle questioni di famiglia. Tuttavia, dopo le false dichiarazioni di Sermin e Betul, è costretta a renderle pubbliche. Consegna a ogni giornalista gli atti di vendita delle sue terre, fatte di nascosto sia da Betul che dal Consiglio di Amministrazione, e rivela che i soldi sono stati incassati illegalmente. Quando le chiedono se intende intentare causa, Zuleyya risponde che inizialmente non voleva farlo, ma ora sarà costretta a farlo per negligenza e truffa, chiedendo un grande risarcimento. Terminano così queste anticipazioni. Se sei curiosa di scoprire cosa succederà nelle prossime puntate, scrivi nei commenti e vi voglio il continuo, e presto uscirà un nuovo video. Alla prossima!